oi buongiorno siete pronti amici tim italia giro del lago di bolsena partiamo dalla cittadina bellissima di bolsena e facciamo il giro in senso orario pronti al gancho? andiamo sulla via cassia nel lago di bolsena ora, Gabriele, siamo sulla via la roica hai finito le marce? si non te lo soppi non te lo soppi e come? wow Bellissima vista da Monte Fiascone sul lago di Borsella. Bellissima vista da Monte Fiascone. Sulle rive sud del lago di Bolsena. Il primo di novembre e le temperature qua sono estive, almeno per noi montanari. Non so come normalmente il primo di novembre qua, ma noi stiamo bene. Ecco siamo scesi da là, adesso siamo passati per il piccolo borgo di Marta. Ciao 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 Marta. Sì Sì E ora non vede Sì? Ma come sei brava, mamma? Com'è il giro fino adesso? Stanco! Il giro stanco? Tu sei stanco o il giro stanco? Sì. Stiamo per arrivare a Bolsena. Dove hai male? Al culo. Eccoci a Bolsena, finale del nostro giro. Com'è stato? Bella. Bella. Amore mio, com'è stato? Tondo. Ciao. 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 Ciao.